In questa distesa di nulla ho trovato questa casa E sinceramente sono curioso Allora effettivamente sembra che qua all'interno non ci sia letteralmente nulla A parte un tavolo Un attimo, dove è sparita la porta? No eh Sono di nuovo rimasto bloccato Non posso rompere niente Niente, sono finito Sono finito Io sono finito Perché ogni volta entro in queste dannate cose? Va bene, completiamo questo dannato percorso perché quando mai Allora, questo coso se ci vado sopra come vedete Fa molto 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 male Però tranquilli, noi tecnicamente abbiamo le golden apple Che queste qua ci possono essere molto utili per non morire Infatti io dovrei mangiarle invece che blatterare Allora andiamo da questa parte E qui ci sono ovviamente le TNT Ma tranquilli, io sono ormai super esperto delle TNT Vi siete cagati addosso È probabile perché anche io mi sono cagato molto addosso Stavo per dire, utilizzo la staffa ma non la utilizzo Sapete perché? Potrebbe essere che io tipo fallisco tutto Ok perfetto Non è esploso niente Cosa c'è qui? Un'armatura Una spada di bedrock Che fa 14 di attack damage Questa solo 12 Quindi utilizzerò quella di bedrock Però questa armatura Che è ben più potente della mia Io tecnicamente la posso mettere sopra Guardate che bello che sono Ok qua mi sembra che ci sia una sorta di guardia Che si chiama peraltro pure sus Ok va bene Però vedete ormai queste guardie a me Non mi fanno più niente C'è finita Tecnicamente però adesso io faccio vedere Che queste guardie rispawnano Non vorrei fare tagli qua perché sennò di te non è vero L'hai messa tu Eh avete visto? Giuro che non sono stato io Forse avrete Avrò fatto qualcosa in editing Non lo so Probabilmente avrò velocizzato una roba del genere Vedete? Questi qua respawnano Non muoiono mai E questo è il problema E probabilmente io devo pure ritornare indietro adesso Cosa vuol dire questa storia? Oh no Ah No vabbè ma questa roba è fighissima È geniale Vedete? Non posso passare qua Ok perfetto Quindi bisogna seguire questo pattern Ma che figata Bellissimo Ok qua mi sembra ci sia tipo una cesta Qua c'è una corona del mistero Che cosa fa questa corona? Scusatemi E non me la posso mettere Come faccio a mettermela? E non me la posso mettere